Sono in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso i casi di influenza stagionale in Puglia e quanto rivela il report elaborato da InfluNet, la rete di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e Servizio. In Puglia tra il 4 e il 10 gennaio scorsi si sono registrati 124 casi di influenza stagionale su 85.257 persone visitate dai medici di base. E' quanto emerge dal report elaborato da InfluNet, la rete di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità con il sostegno del Ministero della Salute relativo alla prima settimana del nuovo anno quando 718 medici sentinella sparsi in tutta Italia hanno inviato i dati relativi alla frequenza di sindromi simili influenzali tra i propri assistiti. L'incidenza pugliese è di poco superiore a quella nazionale 1,45 contro 1,43. L'incidenza maggiore pari a 4,13 ogni 1.000 assistiti si registra tra i bambini da 0 a 4 anni mentre la più bassa si ha negli over 65 pari a 1,02. Nella fascia di età compresa tra i 5 e 14 anni l'incidenza è stata pari a 2,48 mentre tra i 15 e 64 anni il rapporto di incidenza è di 1,32 casi ogni 1.000 assistiti. In Italia nella fascia di età 0,4 anni l'incidenza è pari a 2,24 casi per 1.000 assistiti. Nella fascia di età 5,14 a 0,90 in quella a 15 e 64 anni a 1,43 e tra gli individui di età superiore o pari a 65 anni a 1,17 casi per 1.000 assistiti. In Italia nella prima settimana del 2021 l'incidenza delle sindromi simili influenzali continua a essere stabilmente sotto la soglia basale con un valore pari a 1,4 casi per 1.000 assistiti un dato in controtendenza rispetto alla scorsa stagione quando nello stesso periodo il livello di incidenza era pari a 6,6 casi per 1.000 assistiti. Il valore dell'incidenza totale è pari a 1,43. Nella prima settimana del 2021 in tutte le regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza il livello di incidenza è sotto la soglia basale, si legge nel report che sottolinea come l'incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato al momento i loro dati.